Io mi sono reso conto soltanto in questa occasione che in effetti Carpaccio meriterebbe un saggio a sé particolare che io non ho scritto e non so se scriverò mai. Sono due i testi diciamo canonici, chiamiamole così, poi si può andare a cercare nell'opera di Calvino degli elementi su Carpaccio. Uno che per mia colpa, per mia distrazione, per il fatto che ho consultato soltanto questa seconda edizione dell'album Calvino e non mi ricordavo più la prima che avevo comprato tanti anni prima, ho preso in mano e l'ho riletto tutto in occasione dei lavori fatti per il centenario e ho creduto che fosse un inedito davvero il testo su Carpaccio che c'è qua. Invece, e quindi non l'ho inserito nel volume perché questo è uscito quando l'altro volume l'avevo già composto, intendo il volume guardare con tutti gli iscritti sull'arte e quindi non c'era e l'ho ripreso in mano e ho insistito a fare questo incontro proprio per farmi perdonare di questa esclusione. Allora, sono due i testi. Uno è precedente che è, diciamo, anche io dico la mia, che è il pezzo del castello dei Destini Incrociati, dove Carpaccio è uno dei fuochi del discorso di Calvino. E poi c'è questo testo che è discorsivo ma che ha comunque una piccola impostazione di metodo che è bellissima perché dice che le opere d'arte che contengono nella vita di una persona sono di due tipi. È Calvino, no? Non dice quasi mai tre tipi, ma dice due tipi, proprio l'opposto. Ci sono quelle che si vedono una volta e rimangono nella mente come un tutto che impongono la memoria a una loro immagine fedele o trascurata a cui sempre ci si attiene, una sola volta. Sembra quasi una conoscenza amorosa anche nel fatto di amore. Invece ci sono un altro tipo di opere. Le opere che si tornano a rivedere innumerevole volte sono due modi amorosi nei confronti di, diciamo, non solo degli oggetti ma di immagini. E ogni volta rivelano un particolare e ogni volta hanno qualcosa di nuovo da dirci. Allora io mi focalizzo, adesso insomma, se avessi tempo mi metterei a scriverlo, mi focalizzo solo su una cosa, sul drago che è qua sopra. Anche la prima volta che sono venuto qua sapevo che era davvero un Carpaccio ma insomma uno arriva qui e non c'è scritto Carpaccio, che è la mostra di Carpaccio. Ho detto, guarda che bella riproduzione che hanno portato qui. Perché c'è un aspetto di decontestualizzazione, un po' anche calviniano. Cioè il tema del contesto è molto sempre importante per Calvino. E Calvino è uno degli scrittori che fanno contesto con se stesso. Cioè soltanto essendoci. Allora il tema del drago, che secondo me è una delle cose più affascinanti. Insomma, che cos'è questo drago? Adesso ovviamente non lo troverò più, l'appunto che ho fatto è scivolato via. Allora, il drago siamo noi. Il drago siamo noi, nel quadro. E anche il leone, il leone che appunto San Gerolamo porta con sé, il leone falsamente ferito con la spina, sottolinea Calvino. Siamo noi, cioè la bestia feroce. Allora forse la parte, la prendo da qua perché la parte più bella è qui. Basterebbe leggerlo. In ogni caso San Giorgio compie la sua impresa davanti ai nostri occhi. È proprio il quadro che c'è qua sopra. Sempre chiuso nella sua corazza, senza rivelarci nulla di sé. La psicologia non fa parte dell'uomo d'azione. Che è una bellissima considerazione che dovremmo tenere conto anche quando pensiamo non solo ai condottieri, ma anche agli uomini politici. Che di fatto, uomini politici, è il manager. Che sono gli uomini di azione del nostro tempo. La psicologia non fa per l'uomo d'azione. Casomai potremmo dire che la psicologia è tutta dalla parte del drago. Con i suoi rabbiosi contorcimenti. Il nemico, il mostro, il vinto hanno un pathos che l'eroe vincitore non si sogna ad avere. O si guarda bene dal mostrare. Ecco, questa è la sottigliezza di Calvino. Di qui, dire che il drago è la psicologia, il passo è breve. Forse l'ho mandato a recalcati questa pagina. Anzi, è la psiche, è il fondo scuro di sé stesso che San Giorgio affronta. Un nemico che già ha fatto strazio di molti giovani e giovinette. Un nemico interno che diventa oggetto di estraneità esecranda. Bellissimo aggettivo. È la storia di un'energia proiettata nel mondo o il diario di una introversione. Allora, Carpaccio gli offre questa doppia figura dell'interno e dell'esterno. Naturalmente le doppie figure diciamo di Carpaccio che sta agli schiavoni sono da un lato l'eremita, Monaco, l'eremita, lo stilita, insomma, colui che si isola ma è un isolamento, diciamo, fittizio. E dall'altro, invece, c'è l'intellettuale che da un lato è la stessa persona perché anche quella dell'intellettuale insomma di Sant'Agostino o chi altro sia questo personaggio a cui è attribuita questo nome nel quadro di Carpaccio sta da solo. E il problema di Calvino è il rapporto con gli altri. Ma Calvino è così bravo, così acuto da portare l'altro dentro di sé. E quindi ha, come dire, a contenere questa dualità, questo doppio, questa doppiezza. Ecco, io credo che Carpaccio e non solo Carpaccio ma insomma tutte le figure che qui cita Raffaello, Dürer, Antonello da Messina, eccetera, sono come delle proiezioni. Cioè il quadro è uno schermo quasi in senso cinematografico su cui Calvino proietta attraverso un'interpretazione questa dualità, questa doppiezza di sé. Il desiderio di isolarsi ma nessuno riesce mai a isolarsi completamente. anche l'eremita è la misura della distanza dagli altri che è una prossimità. Ecco, questo è il Calvino che rovescia sempre, continuamente. Non è un eglo-marxista dialettico, è dualista, è duale, insomma, è più aristotelico che dialettico o quantomeno c'è anche una dialettica aristotelica come sanno i filosofi. e come ho studiato tanti anni fa dimenticando. Bene, allora, conclusione. Come si fa ad ammansire il draco? Perché questo è il problema che più o meno tutti hanno, almeno i consapevoli di sé, cosa rara, sempre di più. Diventa sempre più, la parola diventa estroflessa, non è mai introiettata oggi. La parola scritta, si domanda Calvino, ammansisce le passioni o sottomette le forze della natura o trova un'armonia con la disumanità dell'universo. Anche questa cosa è bellissima, noi pensiamo che la disarmonia sia il mondo umano, pensiamo ai conflitti, le cose tremende che sono successe in questo corso, in questo anno, ma la disarmonia è nell'universo, è nell'entropia. O cova una violenza trattenuta ma sempre pronta ad avventarsi, a sbranare? Ecco, queste sono le domande che il drago ci pone. Ti passo la parola senza avere nessuna risposta. Sì, non ci siamo messi d'accordo, però molte cose ritornano. Pensando a questo incontro, mi sono fermata sul verbo scrutare, non solo perché c'è un testo celebre di Calvino che è La giornata di uno scrutatore, ma perché forse si potrebbe partire da questo verbo appunto scrutare per definire il tipo di sguardo di Calvino sul visibile. Leggo scrutare, da scrutare, frugare, rovistare, guardare, esaminare attentamente per scoprire o comprendere ciò che non si manifesta o non si capisce a uno sguardo o a un esame affrettato e superficiale. Si scruta il viso di una persona per conoscerne i sentimenti, indovinarne le intenzioni, si scruta l'orizzonte nella speranza di vedere apparire una nave, dove si scruta la natura per comprenderne i segreti. Il verbo mi sembrava adatto a quello che è l'appostarsi di Calvino sul visibile e per guardare quello che sta oltre le immagini, è una lettura di Manganelli alla fine di lezioni americane e ancora di più dentro l'immagine. Questa è l'immagine che avevo chiesto di proiettare e che resterà così come una forma di riflessione attraverso lo sguardo. Esattamente come Picasso lo ha notato Marco che è il pittore mondo la cui lezione lambisce tutti gli artisti con cui si confronta, Calvino è uno scrittore, uno scrutatore cubista. Le sue prospettive sono multiple, i suoi punti di vista si squadernano nello spazio. L'esperienza del cubismo che mi ha sempre che continua ad affascinarmi è un realismo un realismo integrale. Non l'oggetto rappresentato frontalmente nella strazione della prospettiva ma nella sua possibile realtà con lo sguardo che ruota intorno alla cosa e prova a restituirla nella sua apertura nello sfrangiamento dei suoi bordi nello spazio. Picasso odiava la morte odiava tanto la morte da rifiutarsi di fare testamento questa notizia viene ricordata in una bellissima mostra Picalso di Sofical e Calvino rifiuta ce lo racconta Gianni Celati con la stessa furia cito il buco nero dell'anima le viscere e come il discorso che faceva prima Marco cosa cosa opporre come fuggire dall'aggrovigliarsi delle viscere del loro entanglement Calvino risponde attraverso la linea retta l'orizzonte la sua osservazione e insieme l'osservazione della mente di chi guarda per Calvino guardare l'unica cosa che pensa di poter insegnare coincide con un modo di essere in mezzo al mondo e cosa significa essere in mezzo al mondo essere in mezzo al mondo significa privilegiare provare a privilegiare l'esterno per l'interno lo spazio e non le viscere questo modo di guardare è quello che guida Calvino verso Vittore Carpaccio l'affresco che abbiamo alle spalle è datato 1516 viene dall'abbazia benedettina di San Giorgio a Venezia e quindi è un tardo è un tardo Carpaccio in Carpaccio Calvino vede un maestro dice nel testo che ha appena ricordato Marco se è possibile annoverare tra i maestri un pittore Carpaccio è il mio maestro e il motivo di questa attrazione viene raccontato così l'abbiamo ascoltato prima Carpaccio appartiene alle opere d'arte che si tornano a rivedere innumerevoli volte poi aggiunge non ha mai smesso di pormi dei problemi e continua sento il bisogno di continuare a consultarlo ecco consultare ci sono molti verbi in questo percorso consultare è un verbo metà magico e metà medico si consultano le carte si consultano i tarocchi ma si parla di un consulto per decidere quale strada prendere per una cura consultando Carpaccio Calvino mette in rilievo due necessità due necessità del consulto la concentrazione e il distacco a queste necessità si intreccia un altro termine che è verificare Calvino scrive di sentire il bisogno di tornare a verificare Carpaccio per capire per verificare se l'avevo capito bene se non ha da dirmi qualcosa che non avevo afferrato questo appostarsi di Calvino su Carpaccio quello che rileggendolo mi ha afferrato e qui si apre una voragine un abisso sul concetto di exfrasis che ovviamente non è solo anzi non è per niente una semplice descrizione lo stesso dubbio di Calvino qualcosa che non avevo afferrato apre le porte non solo un'indagine ma risveglia l'elemento dormiente del quadro immette la possibilità di un suono nel silenzio è quello che un poeta come Williams Carlos Williams nel poema Immagini da Bruegel che è un poema del 1962 descrivendo il quadro che è il ritorno dei cacciatori nella neve possiamo ricordarlo a memoria Williams ci restituisce con l'immagine di un cespuglio anche il suono del troncarsi del ramo invernale e dice winter struck bush nel quadro l'occhio che ha dipinto ha seguito la discesa dei cacciatori ha tradotto per noi che guardiamo il loro crinale che si inabissa le loro sagome nere sulla neve la poesia di Williams rilegge il quadro è quello che fa la scrittura rilegge il quadro a cominciare dall'attacco in tutto il quadro inverno che prepara la descrizione come il pittore prepara la tela Williams registra i pattinatori in lontananza l'insegna della bettola il tentativo delle donne di ravviare il fuoco sferzato dal vento ma proprio da questa rilettura ecco l'ecfrasis e riscrittura e descrizione emerge un dettaglio che liberato dal suo contesto arriva fino a noi Williams esattamente come farà Calvino traduce una sorpresa prova a dire l'inatteso che si annida nell'immagine attraverso il dettaglio possiamo dire il senso di freddo fatica precarietà dell'intera scena e abbiamo visto come la scrittura a fronte proprio come un testo a fronte dell'immagine possa immettere questo questo elemento del suono allo stesso tempo quindi a risvegliare l'elemento dormiente del quadro tra l'immagine e il linguaggio scatta la rivelazione di quello che è un resto questo quadro è pieno di resti ma se la poesia la scrittura possono dare sonorità all'immagine è vero anche il contrario l'immagine può restituire alla lettura silenziosa il suo cinema muto se il commento migliore a un quadro lo dice Baudelaire è un sonetto potrà essere un sonetto un'elegia potremmo sollevando gli occhi dalla lettura mettere in moto appunto questo cinema muto possiamo restituire il silenzio l'ambizione di Calvino sono sue parole è insegnare a guardare e questo insegnare a guardare significa imparare di continuo Calvino che guarda Carpaccio non smette di porsi dei problemi attraverso questo sguardo e continuare a porsi dei problemi significa essere vivi essere in mezzo al mondo nel senso di essere tra le cose gli oggetti distanziandosi da essi e privilegiandoli al posto di se stessi Franz Kafka tra te il mondo vedi di scegliere il mondo Calvino come scriverei bene se non ci fossi questo mi piace molto se tra me il foglio bianco e il ribollire delle parole delle storie che prendono forma e svaniscono senza che nessuno le scriva non si mettesse di mezzo quello scomodo diaframma che è la mia persona distanziarsi eliminare il diaframma della persona significa disappropriarsi il termine è quello che utilizza Giorgio Agamben per parlare del tardo Caproni ma è perfetto per quello che Calvino insegue tutta la vita questa sua lotta all'entropia insieme l'attrazione verso l'entropia quello che Calvino insegue tutta la vita è un'espropriazione progressiva del proprio io descrivere è una strategia cognitiva nella ripetizione abbiamo ascoltato gli interventi di Giulio Paolini e di Andrea Cortellessa nella ripetizione si trova sempre una risposta ulteriore un chiedere ancora e ancora all'opera riprodotte a chi la rilegge cioè su dei testi di Camilla Miglio dedicati a Ingeborg Bachman e a Paul Zellan in cui questo elemento della ripetizione del chiedere ancora è un elemento fondamentale per chi rilegge ripetere è riguardare e riguardare significa continuare a guardare non escludendo nulla dal campo visivo riguardare e provare a vedere tutto guardiamo insieme Carpaccio con le parole di Giulio Carlo Argan dice Argan Carpaccio non dipinge che miracoli eppure non vede mai una cosa una persona ma sempre un contesto vede il miracolo l'atto eroico ma non esclude mai dal campo visivo la donna che stende il bucato o il pescatore sulla sponda del fiume se ricordate il quadro che viene erroneamente almeno fino a poco tempo fa chiamato le due cortigiane invece sono due onestissime donne non che faccia grande differenza ma ma lì c'è appunto questa scena di caccia che in realtà si ribalta continuamente verso noi che guardiamo riguardiamo o ripensiamo a San Giorgio che uccide il drago questa è un'iconografia tradizionale San Giorgio è l'eroe ostinato dice Calvino che con un gesto esatto e ben calibrato trafigge il drago in un'ottica cubista è la regola che corregge l'emozione e nessuno più di Calvino poteva essere in sintonia ma forse c'è un altro aspetto che poteva affascinare Calvino Calvino che guarda Carpaccio ed è la ritrazione Carpaccio ha una biografia molto scarna e da un certo momento in poi si ritrae dalla scena pittorica veneziana che vedeva trionfare altri pittori ovviamente ritrarsi non ha nessuna connotazione morale per ritrazione intendo essere assorbiti dai dettagli fare sparire dietro anzi dentro i dettagli perfino il proprio talento la pittura stessa la scrittura stessa significa lasciare una possibilità alla reticenza significa continuare a porre dei problemi su Carpaccio il verbo è stato usato prima Calvino proietta la sua predilezione per lo spazio abbiamo una parola di Mario Barenghi dice è vero quello che Calvino ha da dirci ha sempre a che fare con lo spazio e lo spazio è quello che usa una parola zanzottiana di lava quanto c'è di più aggrumato nella storia e la storia più aggrumata in realtà è la nostra le viscere o meglio quella la storia che crediamo sia la nostra lo spazio permette una forma di spossessamento Carpaccio sostiene Calvino in questo percorso attraverso la sua esattezza esattezza la seconda voce dell'elezione americana è esatto anche quando descrive pezzi di corpi quando accende il fuoco per bollire il suo santo in un pentolone ogni tizione è ben definito i contorni sono delineati la tortura nel quadro ce ne sono ben due una è quella dei rostri e l'altra è quella del fuoco prima della decapitazione finale il dolore è remoto come nelle fiabe sulla pelle di Carpaccio Calvino inietta il virus della sua malattia che è il condizionale da ogni scena guardata la scrittura ne potrebbe trarre delle altre molte altre nella scrittura ogni possibilità è aperta dalla scrittura stessa mi raccontavo scrive Calvino in visibilità la quarta delle lezioni americane mi raccontavo mentalmente le storie interpretando le scene in vari modi producevo delle varianti fondevo i singoli episodi in una storia più ampia scoprivo isolavo e collegavo contaminavo immaginavo nuove serie scene in cui i personaggi secondari diventavano protagonisti mi fermo proprio anche qui sulla successione dei verbi producevo fondevo scoprivo isolavo e collegavo contaminavo che è un altro verbo medico sono tutti i verbi che ribadiscono quale sia l'esigenza fantasticare dentro le figure scardinandole dal loro contesto senza più gerarchie inventando nuove serie scene in cui i personaggi secondari diventano protagonisti mescolando dunque le carte come nel castello dei destini incrociati augusto gentili usa a proposito di carpaccio il verbo decentrare potremmo potremmo aggiungerlo a questa sequenza di verbi se guardiamo di nuovo il quadro vediamo che l'azione di San Giorgio invece di dominare la scena ci attira verso i dettagli le lucertri e gli avvoltoi potrebbero immergersi nell'acqua forse ho avuto una visione o salire sull'albero in cui è nascosta una figura il monte sullo sfondo potrebbe improvvisamente essere immerso nella nebbia le figure a sinistra potrebbero migrare nel gruppo a destra in realtà le zampe del cavallo inquadrano resti umani la figura troncata a metà dimezzata mostra le viscere e il sangue raggrumato che ha lo stesso tono di quello del drago carpaccio questo interessava credo Calvino è il pittore dello smembramento che fa pezzi nei riquadri sottostanti il trionfo del santo raccontando le quattro sequenze anzi le quattro sequenze con due della tortura che appunto sono rostri fuoco dichiarazione di fede decapitazione quella che va potenzialmente in pezzi è la stessa armonia della scena principale la fantasia che piove dentro la mente di Calvino che guarda carpaccio è la conferma che non esiste una trama che la vita è fatta di pezzi a volte a pezzi San Giorgio è circondato da un collage di mani crani umani e di animali braccia visi e corpi già decomposti se il colore dell'armatura per esempio è quasi smaltato quello dei resti invece è livido vira come sa chiunque abbia visto un cadavere verso il verde il quadro che vedete questo l'ho già detto è una variante tarda dell'opera a San Giorgio agli schiavoni dei telerial San Giorgio agli schiavoni ma in entrambe c'è la stessa riflessione sui resti alcuni sono stati appena divorati dal drago altri invece sono già scheletri bestie umani sono mischiati tra loro e alcuni sono desertificati il drago abbiamo ascoltato prima la 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 citazione tradizionalmente però era a figura della lussuria e certamente dell'alterità ma il drago era raffigurato era raffigurato sulle bandiere dei turchi nemici da sempre di Venezia e il drago era lo testimonia un manoscritto che poi non ho pensato ma si trova facilmente online c'è un disegno che è conservato in un manoscritto alla Baudelaian Library di Oxford a forma di drago erano le macchine da guerra del tempo stesse fauci ali artiglio orecchie accartocciate e come bocche di drago erano percepiti i cannoni turchi a maestrare il drago se ricordiamo un altro dei dei teleri di San Giorgio degli schiavoni c'è un'immagine in cui questo drago è diventato un lucertolone che viene trascinato sul ventre con la schiena che mostra pelle scura e pelo con il cranio nudo e la coda viscida ecco ammaestrare questo drago significa significava per Carpaccio certamente ammaestrare una comunità ma anche questo invece riguarda Calvino usando come guinzaglio la cintura della principessa che guarda è la possibilità di controllare l'apparentemente incontrollabile attraverso un vero e proprio dislocamento del terrore il suo assottigliarsi l'assottigliarsi di questo terrore ha una striscia di colore riprendo la frase di Calvino ogni volta le opere di Carpaccio rivelano un nuovo particolare ogni volta hanno qualcosa da dirci non solo possiamo guardare Carpaccio con gli occhi di Calvino ma appunto rileggere Calvino a fronte di Carpaccio l'affresco si anima e parla prendendo suggerendomi le strade mille storie e allo stesso modo le scritture di Calvino possono trovare questo questo luogo con questi con questi dettagli con questo con questa esattezza e si può provare infine a seguire qui il percorso suggerito dallo stesso Calvino la lancia di San Giorgio si trasforma in penna il drago si trasforma in un leone curabile c'è una contiguità ce lo dice lo stesso Calvino tra le storie di San Giorgio e San Girolamo o Sant'Agostino il guerriero diventa uno studioso dice Calvino mi vedevo come un monaco nel suo studio l'azione quindi può sconfinare nella contemplazione la dispersione nel raccoglimento e il raccoglimento permette un'ultima considerazione se avviciniamo progressivamente lo sguardo allo sfondo dello studio di San Girolamo vediamo cose oggetti strumenti umani dentro scatole che disegnano una rotta il catalogo lo racconta giustamente vediamo strumenti dentro scatole che appunto disegnano una rotta su cui Carpaccio anticipa Joseph Cornell e Mark Dionne dentro queste scatole studio dentro queste conchiglie ci sono lettere pergamene clessidre astrolabi oggetti dettagli e qui interviene Calvino dettagli che sembrerebbero arginare l'ossessione ma la rendono invece più visibile non escludo dice non escluso dice Calvino che la calma di San Girolamo Sant'Agostino sia solo apparente non escluso che l'ordine dello studio covi una catastrofe imminente un annuncio di terremoto ed è un terremoto un sisma che Calvino sperimenta nel suo linguaggio c'è un cortocircuito tra il sardo marmorio anzi scusate l'italiano marmorio della madre io sarda sarda scienziata laica una delle prime a insegnare all'università e invece il linguaggio del padre con il disordine la passione l'intrecciarsi dei diversi linguaggi Calvino sa che le cose si possono rivelare solo nello sfacelo che la perfezione è accidentale che l'essere umano è una possibilità del mondo lo dice in anticipo sulle prospettive anti-antropocentriche in cui parliamo lo dice in un'intervista del 67 con la quale chiudo e che potrebbe accompagnarci nella contemplazione non solo di Carpaccio ma di tutte le immagini come esercizio come esercizio che condivido pienamente di disappropiazione leggo dice Calvino il mondo esisteva prima dell'essere umano ed esisterà dopo l'essere umano è solo un'occasione che il mondo ha per organizzare delle informazioni su se stesso dopo questa lettura cosa possiamo dire ancora no tu ci offri una una visione del tutto legittima del Calvino catastrofico che è probabilmente come dire una delle vere immagini che ci abbiamo ereditato c'è una frase che credo di aver pescato in un ottimista in America che suona più o meno così la frase di Calvino catastrofe sono i giorni in cui non accade nulla perché gli esseri umani hanno bisogno che le cose accadano e la catastrofe di Calvino è legata anche al non accadere cioè al suo posto al vuoto all'impossibilità ecco il non accadere è anche il bambino che non riceve il dono il Natale che è Santa Lucia che non arriva la bicicletta diciamo è quel modello per cui noi siamo in attesa di qualcosa che non tanto e non solo ci interroghi ma appunto quel mondo delle cose che Calvino vedeva intorno a sé e che voleva far parlare l'albero l'uccello sul ramo la plastica cioè tutto quel mondo che che adesso ci assale e che nella Pubella a Gray che secondo me è uno dei testi più belli del Calvino diciamo catastrofico del Calvino dei resti proprio dei residui delle rimasugli dei corpi frammentati dove lui dice io porto fuori la pattumiera per celebrare questo funerale che evita il mio funerale e che quindi diciamo questa necessità della catastrofe che diciamo che che è costruita da una visione cioè è costruita la visione ma la visione porta se io riesco a leggere in qualche modo l'intelligenza che tu hai messo in questo testo che ci hai letto che hai raccontato penso che proprio sia questo bisogno un po' troppa ecco che che è una necessità lo scrittore non può esistere se non c'è la mano che scrive ed è una follia pensare alla mano staccata dal corpo diciamo è un fantasma quasi quasi in senso lacaniano è un fantasma la mano che scrive come starei bene questo quindi quello che a me pare insomma che che questo quadro dica in qualche misura naturalmente lo forzo è il fatto che scrivere è un sacrificio e che Calvino quasi come diciamo il Cristo in croce che si rivolge a Dio allontana da me questo calice ecco scrivere è una fatica è una fatica non fisica neanche psicologica non saprei dirlo è una fatica è la fatica e quindi questo allontanamento insomma è la necessità di 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 uccidere di uccidere il drago insomma credo che questo testo anch'io dico la mia che è uno dei testi secondo me più belli e più emblematici di questo scrittore autobiografico senza io è è il racconto appunto in modo differito del del tuo e del nostro e del suo sacrificio del sacrificio di chiunque scriva insomma che alla fine l'idea che questa lancia diventi una penna insomma è davvero una bella catastrofe se ci sono delle domande io sono qui col micro ecco arrivo risponde no 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 volevo solo aggiungere una piccolissima sì credo che questo questo esercizio di disappropriazione di spossessamento sia una una strategia che non è detto poi riesca messa in in atto da da Calvino e il guardare il guardare il quadro guardare poi un quadro così complesso e appunto che non ci dà soluzioni perché continuamente ci fa ci fa cenno al dettaglio ci fa ci fa cenno dice Arassa e qui è pieno di cenni allora seguendo questo cenno c'è la possibilità di eliminare il diaframma di se stesso che è quello che dà tanto fastidio a Calvino e mi ha sempre colpito forse addirittura commosso il fatto che poi questa questa mente sia stata concretamente spezzata dall'ictus questa grande intelligenza con questo con questa morte che veramente è uno spossessamento salve Andrea Sermonti giornalista e correva l'anno 1966 67 io avevo 12 anni e mio papà professor universitario mia mamma lavorava all'istituto superiore di sanità e io ho avuto tutte le malattie santematiche che esistono morbillo quindi uno a quell'epoca stava a casa a letto non c'era la televisione niente leggevo e i due che ancora sono in testa erano Buzzati e Calvino che mi piacevano in una maniera proprio da divorare le pagine ma attento che Calvino è comunista e papà non so neanche se papà ma mamma però c'era questa cosa perché mi dicevano questa cosa al di là della battuta per spaventarla perché leggere è pericoloso cioè il comunista non è con la C maiuscola era con la C minuscola e il comunista era il disturbatore era il disturbatore mi piaceva da morire però attento è comunista dite che cos'è il comunista noi ci abbiamo creduto non tutti non tutti ci hanno creduto allora i combuzzati ovviamente i combuzzati no ma i combuzzati il legame c'è è un legame insomma tra l'altro Calvino ha scritto uno dei più bei saggi su Buzzati del resto Buzzati diciamo anticipato anche degli aspetti dei temi di 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 Calvino nella nostra letteratura forse perché Buzzati ha fatto il giornalista come dire non è nel mainstream non viene quasi mai messo tra tra gli autori importanti però effettivamente effettivamente come scrive Calvino insomma all'inizio del saggio sul deserto dei tartari è davvero uno degli iniziatori di una linea del fantastico italiano che dentro cui Calvino sta sta assolutamente in modo completo del resto è un disegnatore è un pittore e anche in questo c'è un contatto con Calvino io continuo a insistere naturalmente sul fatto che comincia come disegnatore ecco che il disegno resta uno dei tratti del suo stilema del suo stile ecco ci sono dei contatti come sempre i rapporti sono sempre molto sotterranei e spesso anche molto 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 invisibili e gli scrittori non lo dicono mai degli altri scrittori quanto fino in fondo quanto quella cosa abbia contato meno in quella lettura in quel momento insomma è una bella coppia grazie Andrea Cortellessa pensando all'altra apparizione del drago nell'iconografia di Calvino nella copertina di una pietra sopra il disegno di Sol Steinberg in cui il drago è rimpicciolito sembra già il drago al guinzaglio sembra già il drago ammansito anche se in realtà continua a essere una minaccia per il cavaliere che lo insegue però in quella successiva figurazione in quella successiva immagine è come se il contesto la storia ormai avesse prevalso e questo combattimento tra il drago e il cavaliere alla fine come dire sono due personaggi con i quali si può entrambi empatizzare però ecco mi chiedevo in questa dialettica tra queste due immagini così diverse del drago e in questo discorso bellissimo che ha fatto Antonella sulla disappropriazione nella desoggettivazione Calvino non ovviamente forse da un certo punto di vista non facendo a una possibile e dal mio punto di vista un po' terra terra ovvia interpretazione del drago come un simbolo sessuale cioè appunto fa il paio con la medusa delle lezioni americane e con l'interpretazione che Freud aveva dato della medusa come della istintualità della sessualità appunto della sessualità anche più disordinata è più minacciosa che insorge e che lo spirito invece razionale deve recidere deve cauterizzare ecco mi chiedevo appunto se questa lettura appunto del combattimento col drago come in fondo un combattimento con l'io con la centralità dell'io come si concilia se si concilia con questa sorta di allontanamento da sé proprio di forclusione ci vuole il tecnicismo in questo caso della sessualità del campo della sessualità dell'orizzonte della sessualità dall'immaginario di Calvino che poi sappiamo riemerge in tanti dettagli però effettivamente Marco spesso ricorda come Celati si lamentasse un po' di questa componente un po' diciamo prude di Calvino Calvino editor Calvino lettore Calvino saggista effettivamente è un orizzonte che latita dall'immaginario di Calvino c'è un episodio che a me piace moltissimo in uno dei racconti di Sotto il sole giaguaro quello che si intitola Il nome il naso in cui invece la sessualità emerge e diventa anche il motore narrativo quindi naturalmente è un discorso che ha molte eccezioni però ecco tagliando le cose un po' con l'accetta o con la lancia un po' viene in mente che l'idea di affrancarsi da questa centralità di Lio significa anche mettere tra parentesi e allontanare il fantasma della sessualità forse è troppo banale questa cosa sul tema sono poco preparata ma sì che il drago sia letto come l'emblema della lussuria della sessualità che poi produce 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 morte storicamente si lega anche al fatto che San Giorgio cioè che queste opere di Carpaccio si collocano anche in una in un momento in cui era molto diffusa la sifilide quindi come dire c'è una una motivazione questa cosa che dici del mettere tra parentesi da parte di di Calvino mi sembra legittima convincente Augusto Gentili parla di questa di questa di questo elemento del 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 drago come come emblema della della lussuria appunto lo mette in relazione a questa a questa specie di di epidemia chiamiamola chiamiamola così l'altro elemento che mi veniva mi veniva in mente è invece la lettura per esempio da parte di Anna Maria Ortese che vede nel drago il 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 piccolo l'emblema del dell'elemento schiacciato dal dal potere lei parla del non mi ricordo dove ma lei parla del di un'altra di un'altra immagine di San Giorgio che uccide il drago e dice appunto che il suo il suo sentimento era un sentimento di compassione di pena nei confronti del del drago del drago del drago trafitto e in effetti questo questo drago fa più pena che che paura e ancora più pena che paura fa il il lucertolone di cui di cui vi ho parlato prima in cui veramente questo questo povero drago viene trascinato come un prigioniero appunto sul ventre sul sul lasciando una scia di 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 sangue e non 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 solo non fa non fa paura ma spinge alla alla pietà forse sulla lussuria tra parentesi di Calvino Marco sa è chiaramente una delle domande trappola no allora sicuramente è vero Andrea cioè non tu dici appunto usi il termine forclusione se si fa l'elenco delle delle comparsa da un lato della figura femminile che non è detto che debba corrispondere al tema della lussuria o della sessualità diciamo comunque uno comincia così e fa la lista diciamo delle delle apparizioni femminili partendo anche dai primi raccontini quelli che adesso ha pubblicato Falcetto lui è un uomo di quell'epoca quindi diciamo che è molto difficile in un'educazione che ha ricevuto in un sistema insomma a parte la Ginzburg il gruppo Enaudiano non presentava una presenza assidua di donne però ci sono due donne nella sua vita Elsa De Giorgi e ci cita Esther Singer che hanno un peso evidente molto importante ma questo è soltanto diciamo come dire un quadretto un quadro dell'insieme che bisognerebbe mettere allora Calvino non ama il disordine ma il tempo stesso come dire sa benissimo che solo dal disordine dal caos che emerge una forma d'ordine insomma per dirlo con Michel Serre cioè l'ordine sono soltanto delle rare isole in questo oceano di disordine in cui noi viviamo lui vuol stare sull'isola cioè vuole fortemente creare delle forme di ordine il che significa che come mostrano i manoscritti quelli che ci sono qui che c'è un problema di grande disordine nel suo scrivere diciamo nella in questa scrittura a mano adesso io appunto vorrebbe consultare quelli che la biografia la sanno meglio di me ma insomma Calvino scriveva sempre a mano scriveva sempre a mano una prima versione poi la talmente caotica che lui dice in un'intervista che doveva mettere la lente in grandimento per capire cosa aveva scritto e poi dopo la riscriveva a mano e poi passava alla forma del dattilo scritto e poi ci sono le bozze cosa vuol dire per me l'atto della scrittura in Calvino questo caos di parole che poi diventa sulla pagina stampata qualcosa di estremamente ordinato perché conosco pochi scrittori almeno nella lingua italiana che sono capaci di questo di questa lingua limpida semplice insomma poi la forma semplice se ne è parlato tanto ecco allora credo che la sessualità in Calvino nello scrittore Calvino poi l'uomo è ancora un'altra cosa nello scrittore Calvino sia una grande fonte di desiderio e di azione anche di scrittura cioè per dirlo metaforicamente davvero vedo lì qualcosa di molto sensuale nella calligrafia nella scrittura nel caos e questo bisogno di arrivare a una forma ecco quindi Calvino fa anche un viaggio nella sua scrittura fa un viaggio dal disordine all'ordine ecco e quindi qualcosa Andrea si perde ovviamente questo qualcosa magari è proprio quello sostanziale è proprio l'elemento pulsionale del desiderio non so dirlo meglio di così insomma preso alla sprovvista è un argomento di cui non scriverei mai di questo sono abbastanza sicuro perché non è non è secondo me lì la strada la strada importante la strada importante e mi gira in testa da anni Andrea lo sa perché ogni tanto ci telefoniamo e parliamo di queste cose è l'autobiografia senza io di Calvino insomma Calvino è totalmente autobiografico cioè bisognerebbe metterlo in trasparenza poi quelli che sanno le biografie di Calvino anche in maniera più dettagliata hanno ricevuto da Cicita tante confidenze cose eccetera si rendono conto che è tutto autobiografico e come è riuscito a far lievitare questa autobiografia verso qualcosa per me è sorprendente lì c'è un mistero di più non so dirti Andrea allo stato attuale mi avete convinto cioè questo questo quadro effettivamente è una specie di allegoria di Calvino c'è la scrittura c'è il calamaio che è il drago Apollino Dionisiaco ha bisogno del Dionisiaco il pennino va in tinto e il sangue di drago e il sangue di grado di drago che cos'è se non è il petrolio e sono draghi macerati quello che chiamiamo petrolio è il sangue di drago quello che viene pescato comunque a questo punto lo interpretiamo tutto così questa dicotomia fondativa di tutto l'occidente appunto di San Giorgio è il drago che si ripete all'infinito Apollo Dioniso e lui vede questo qui quindi quegli alberi se prendiamo la lente di ingrandimento sono abitati da baroni rampanti e questo cavaliere è inesistente e sotto cosa vedo il barone il visconte di mezz'alto l'ultima cosa che ha detto Belpoliti mi ha fatto venire in mente una domanda di cui un po' mi vergogno perché è proprio una domanda elementare qual era il rapporto di Calvino con la psicanalisi lo dice in una battuta fulminante che sta nell'avventura di uno spettatore parlando del cinema hollywoodiano e dice come un paziente allo psicanalista sia che dica una bugia sia che dica la verità lo psicanalista interpreta cioè funziona se la cava sempre gli scrittori dicono sempre delle bugie perché questo è assolutamente inevitabile anche i poeti faccio una distinzione tra i due ma penso che sia diciamo che noi non possiamo chiedere non chiediamo la verità agli scrittori alla letteratura noi chiediamo la verità a noi stessi la letteratura ci fornisce qualcosa d'altro ecco beh direi che possiamo chiudere con questa riflessione piuttosto romantica grazie grazie a voi agli ospiti e se potete ci vediamo domani grazie 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 grazie